La nostra fiducia non l'avete mai avuta, ma oggi non avete nemmeno più quella del Paese. Anzi no, di qualcuno ce l'avete. Siete passati dal sostegno di un condannato in via definitiva come Berlusconi ad un plurimo rinviato a giudizio come Verdini, accusato ultimamente di bancarotta fraudolente in aggiunta alle medaglie che già aveva conquistato precedentemente, accusa di concorsi in corruzione, rinvia giudizio per corruzione, accusa di bancarotta, rinvia giudizio per illeciti e truffa, Complimenti al Partito Democratico. E caro Verdini, in una maggioranza che è già piena di indagati, richieste d'arresto e rinvia giudizio, volevo dire a Verdini che in una maggioranza che è già piena di queste persone, lui si troverà perfettamente a suo agio.